L'ESA è Istruzione Innovazione Cittadinanza attiva Incontro col territorio Crescita Inclusione Creatività L'ESA è Progettualità Sicurezza L'ESA è Accoglienza L'ESA è Intraprendenza L'ESA è Collaborazione L'ESA è Condivisione L'ESA è Un mondo di scoperte L'ESA è Turismo e territorio L'ESA è Morante e la libertà D'etre Soi-même L'ESA è Semplicemente Per te Join us For a better future Vieni a l'ESA Con noi Applausi So già cosa mi aspetta E non mi spaventa Potrai scordare ogni riguardo Ma non mi lascerò sorprendere Potrai pensare che a questo non si possa resistere Ma non cambierò mai ciò che sono Io sono Florin Stone Probabilmente La miglior superficie di sempre Buonasera In occasione del primo anniversario della scomparso di Sebastiano Bernardini Che ricorre oggi Sassuolo e Pavullo Lo ricordano attraverso due messe Una Celebrata questa mattina nella parrocchia di Santa Antonio Un'altra alle 18 Nella chiesa di Santa Croce a Pavullo Trasmessa anche sul canale YouTube Parrocchia Pavullo Nel primo pomeriggio invece Il comune di Sassuolo Ha voluto omaggiare la figura di padre Sebastiano Con una video chiacchierata Tra l'assessore Corrado Ruini E il giornalista Leo Torrini Disponibile sulla pagina Facebook del comune È scomparso ieri Tra di 85 anni Giovanni Zanetti Storico gioielliero di Via Menotti Zanetti lascia le figlie Maria Giovanni e Giuliana La sorella Piera I generi Gigi e Stefano E i nipoti Carlo Alberto e Giada Il funerale si terrà domani mattina alle 10 Nella parrocchia di Santa Antonio Il Sassuolo Store domani mattina Finalmente aprirà la propria porta al pubblico Il primo negozio interamente dedicato Al mondo nero verde Si trova in piazza Garibaldi E in vista delle festività natalizie Da domani al 24 dicembre Sarà aperto tutti i giorni Dalle 9.30 alle 13 E dalle 15.30 alle 19.30 Ed ora passiamo allo sport Dopo la vittoria con il Benevento Nel turno in fa settimanale Il Sassuolo fa visita alla Fiorentina Per cercare altri punti E per restare aggrappato alle zone nobili della classifica Ecco le parole di De Zerbi alla vigilia del match Non sono tanto concentrato sui punti che abbiamo fatto Ma sono concentrato sul tornare a essere tutti in forma Cosa che non siamo Di recuperare gli infortunati E di ritrovare il gioco che ci ha sempre contraddistinto Questo è un chiodo fisso che ho Perché sono soddisfatto Dalla classifica Sono soddisfatto da come la squadra è maturata In tante situazioni Però Non siamo completamente soddisfatti Dobbiamo ritornare a essere Quelli giusti Quelli belli Quelli che giocano Quelli che creano tante occasioni Quelli che Trovano i giocatori tra le linee Quelli che andiamo A ricercare l'uno contro uno E dobbiamo ricercarlo oggi Ancora di più Perché la classifica ci sorride Senza essere distorti da altri pensieri Della classifica O col minimo sforzo ottenere il risultato Stiamo facendo meglio Sicuro Stiamo rientrando Stanno rientrando dei giocatori dagli infortuni E quelli che non erano brillanti Stanno tornando a essere quelli veri Questo sì Ma questo Questo argomento Passa dalla volontà Di tutti Dal desiderio di tutti Dalla consapevolezza di tutti Che Che il risultato è più facile ottenerlo Giocando Quindi non deve essere Il pensiero solo Alla vittoria Deve essere alla vittoria Attraverso quello che è il nostro DNA A me dopo le partite Non piace discutere Perché non piace né discutere Né andare a difendere il lavoro O la prestazione Più di tanto Partite col Benevento Si deve dividerla in due parti Il primo e il secondo tempo Nel primo abbiamo giocato noi E il Benevento è ripartito tre o quattro volte E questo lo dimostrano tutti i dati I dati del possesso palla I dati dei tiri in porta I dati delle palle giocate in area avversaria I dati del quanto siamo stati nella metà campo avversaria Nel secondo tempo Nel secondo tempo in dieci abbiamo sofferto Più del lecito La partita con la Roma è uguale La partita a Roma dice che nel primo tempo abbiamo fatto Noi la partita Nella metà campo avversaria Abbiamo portato più volte la palla nella loro aria Abbiamo tirato più in porta E nel secondo invece non meritavamo di vincere Meritava più la Roma Questo sicuro Però le partite durano 90 minuti E bisogna giudicarle tutti in maniera oggettiva In maniera obiettiva Ma no, sono maturati i ragazzi Tutti Nel non voler prendere gol Poi non credo che ci siano differenze In queste cinque partite di Clichit Avremmo potuto subire gol In queste partite Come in altre Probabilmente alla prima occasione Abbiamo subito gol Quindi non sono state partite perfette Adesso vogliamo con più forza Non prendere gol Ma non è cambiato niente A livello di organizzazione Di concetti È cambiata la voglia Di andare oltre Di mettere la pezza A un errore di un compagno E fin quando la palla non tocca la porta La rete Abbiamo la convinzione di evitare il gol Questo sì Io penso che Incontrare la Fiorentina domani Sia la partita più difficile Che potessimo trovare in questo momento Se pensassimo il contrario Perdiamo domani E questo glielo ho già detto alla squadra Glielo dirò ancora Ma è una partita difficilissima Perché a Firenze Innanzitutto hanno giocatori forti E poi si sono create le condizioni Per aspettarsi una reazione loro E quindi noi questo dobbiamo saperlo Quindi dobbiamo Non fare più del solito Però dobbiamo Prepararla come Se giocassimo contro la prima classifica Altrimenti domani saranno Problemi grossi Già problemi Li avremo Quindi non dobbiamo Aumentare questi problemi Perché togliamo qualcosa E questo è un altro Passaggio di maturità Della squadra La svolta mentale A volte ce l'hai A volte torni indietro Invece per non tornare indietro Dobbiamo preparare La gara di domani Come se giocassimo contro la prima in classifica Esattamente Allo stesso modo Qualche cambiamento Ci sarà informazione Perché lo richiede la partita Perché ci saranno Tre gare in sette giorni E in base alla tipologia di gara Penso possa venire Faccio delle alternanze di formazione Ma Consone alle caratteristiche dei giocatori E alla partita che Credo possa Possa diventare Possa venire fuori Rientra Caputo Rientra De Freire Rientra Chiriches Vediamo se A partita in corso O se Dall'inizio Ma stanno bene Li ho visti Bene di salute Bisogna capire un po' Il minutaggio Però È una notizia Importantissima Per noi Questi Questi tre rientri E quindi siamo tutti A parte Chiaramente Filippo Romagna E Ricci Che si è fatto male La settimana scorsa Volle Academy Sassuolo Saluta Sara Taglie La centrale Classi 1998 Poche ore dopo La vittoria di domenica Contro Olbia Ha ricevuto E accettato Una proposta Dalla Igor Novara La società neroverda Preferito non trattenere La giocatrice Eclomerà questo vuoto Continuando a puntare Sulle giovani Provenienti Dal proprio vivaio Grazie per essere stati con noi Per questa edizione Di Sassuolo GTG è tutto L'appuntamento domani Buona serata